è pronto mia madre si avvicinò alla porta della cucina e gridò è pronto noi entrammo uno dopo l'altro nella vasta cucina e ci sedemmo intorno al tavolo mia madre distribui il cibo nei piatti rapida ed efficiente portando due piatti alla volta prima servì nando e mara fino a me lasciando se stessa per ultima mamma come eri brava e come ti amavo mangiò in fretta la sua porzione poi distribui i biscotti fatti da lei con molto zucchero e cosparce di marmellata fatta da lei dopo preparò il caffè ascoltando le nostre chiacchiere con un sorriso accogliente mamma come ti amo anche se non ci sei più ma non ci sei più allora perché sento nei mobili colpi di giorno e di notte e ti sogno e le luci si spengono e accendono quando ti penso grazie mamma di esistere ancora